Bene, si apre all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, la seconda giornata dedicata al Gala internazionale. Ieri scena il galoppo, oggi invece è il sulchi che va da protagonista con sette corse in programma. Apertura con il premio Ippodrom, aspettando poi il GP Nastro d'Oro. In giornata saranno premiati anche i primi tre classificati che hanno dato lustro alle classifiche 2019 per il trotto siracusano. Partiamo con la prima corsa dunque, il premio Ippodromo con una corsa da stipulare sui 2200 metri, una condizionata riservata a cavalli di tre anni. Mancano 150 metri allo stacco della macchina. Il galoppo di Bluetrain allo stacco della macchina. Bayon è il più veloce e si porta al comando. Al suo esterno di galoppo anche Bayon. A questo punto rimane in testa. Black Mamba Sam davanti a numero due, quindi Bebop Ferm. Arriva la squalifica per il numero due di Bayon. Black Mamba Sam adesso deve affrontare l'attacco di Bebop Ferm che avanza deciso al suo esterno. Black Mamba, Bebop e Boutique sono rimasti in tre in questo momento. I primi 400 metri in un lento 32. Black Mamba da strada al numero sedi di Bebop Ferm che all'ingresso del primo passaggio sotto le tribune è il nuovo leader. In seconda posizione c'è sempre Black Mamba Sam davanti a Boutique. I 600 metri vengono percorsi in un comodo 49. e si va così con questo terzetto. Gli altri due sono finiti a tabellone e ci avviciniamo agli 800 metri. Bebop Ferm in rallentamento li tocca da 1 e 22 e mezzo, 1 e 6. Black Mamba a precedere Boutique. Gli altri due che seguono ma sono tutti entrabbi squalificati. Si arriva sulla penultima curva. Il primo chilometro di Bebop Ferm in 1 e 23. Bebop, Black Mamba Sam, Boutique. Il terzetto di cavalli che adesso si prova ad affrontare la dirittura di fronte. Posizioni che non subiscono relazioni. Boutique mette la testa in fuori all'inizio della dirittura di fronte e si porta a largo di Black Mamba. Bebop continua a condurre però abbastanza agevolmente. Siamo a metà della retta di fronte con Bebop Ferm adesso avvicinato da Boutique sempre seguito da Black Mamba. Frazione intermedia ancora parecchio lenta con Bebop Ferm che comincia comunque ad allungare. Black Mamba sempre nella sua scia. Boutique che comunque persevera a largo. 2-11 il miglio. Bebop Ferm ancora non ha mai mosso le mani Giuseppe Porzio Junior. Boutique prova a restare incollato anche se all'esterno. Black Mamba fa lo stesso al suo interno e siamo su finire la curva con Bebop Ferm che comunque comincia ad allungare. Black Mamba che mette la testa in fuori. Boutique che ripiega in terza posizione. Si entra addirittura arrivo con Bebop Ferm che fino adesso non ha fatto nulla. Viene chiamato adesso da Giuseppe Porzio Junior a maggior impegno. Sul largo scatta bene Black Mamba Sam è un testa a testa tra i due con Bebop che lungo la curva viene attaccato. I pareti viene attaccato da Black Mamba che si avvicina ma Bebop Ferm sembra poter controllare ragionevolmente l'avversario e comunque si fa minaccioso e sul palo Bebop Ferm riesce a tenere il minimo dei vantaggi. Siamo in compagnia di Giampaolo Minucci ospite qui al Mediterraneo per il Gran Premio Nastro d'Oro sarà l'interprete di Alcatraz Stecca. Giampaolo Alcatraz la conosci perché l'hai guidata e l'hai guidata secondo me nella corsa più bella in Italia che è il Premio Marche dove tu hai fatto anche una pennellata alla Minucci. 12-6 partenza arrivo di fuori. È una cavalla che mi sembra che si adatti anche a una versatilità rispetto agli avversari. Secondo me la partenza può essere il nocciolo della corsa. Come la vedi? Che idea ti sei fatta agli avversari che te lo conosci? Uno di questi l'hai anche guidato al Pacino Treppe. Allora innanzitutto buonasera. Ma sai Al Pacino è un calo che parte molto forte anche lui. Poi sicuramente c'è anche quella di cintura che sa partire forte e naturalmente sia il guidatore che la cavalla conoscono bene il tracciato che è sempre un po' da conoscere bisogna dire la sincera verità. Lei Alcatraz diciamo che ha corso con categorie un po' più superiori ma no per escreditare gli altri che corrono con me oggi. Però ha fatto categorie migliori. Sì quella di Montegiorgio ha corso molto bene. Ha corso molto bene le batterie del derby tra quali la vince e sa partire molto forte. Però ecco adesso dire se ce la facciamo davanti o magari chi è che va davanti conta io penso che questo qui non è tanto lago della bilancia credo io. Anche perché come si dice le corse non è che si vincono a partire con una pista come questa che è talmente lunga. Gli altri non vanno esclusi, non va escluso nessuno. Poi oggi ho visto che c'è un po' di pantano e bisogna stare molto attenti anche nei parziali. Sembrerebbe una corsa facile ma non credo che sia proprio così facile. Ci sono delle insidie dietro l'angolo e che può succedere un po' di tutto quanto. Diciamo che qua si fa forza molto su Akela Palferm sia perché è terza del Mediterraneo e perché arriva vicinissima D'Aramis K e Antonio Leone che se fossero stati presenti sarebbero stati tra i cavalli più attesi. Akela ha corso la finale delle Oax insieme ad Alcatraz se non ricordo male però lei era confinata a seconda fila Alcatraz ha fatto suo un ottimo terzo posto quindi non c'è neanche una pietra di paragone e probabilmente lei si giocherà tutte le chance come nel Mediterraneo in testa. Sicuramente poi ognuno fa le proprie scelte. Io credo che se va davanti se la fa davanti poi naturalmente stare a me a decidere quello che fanno gli altri non è proprio di mio costume già è difficile guidarne uno, pensa un po' due. Sgamberai dopo la seconda? Adesso sgamba dopo la seconda, proviamo un pochettino di partenza naturalmente perché bisogna farla non ci nascondiamo dietro a un paragone del genere, bisogna per forza partire e poi dopo vediamo quello che succede. Ok grazie Gianpaolo. Bene, parere di Lorenzo Larosa che abbiamo acciuffato mentre passavamo davanti alla telecamera per il premio GP Nostro d'Oro, che corsa ti aspetti? Ma peccato per l'intanto buongiorno a tutti e buon divertimento, peccato per la giornata perché hanno lavorato tanto sulla pista in questi giorni, vedo mio fratello che è un po' esasperato perché poverino, hanno fatto veramente tanto, gli operai, Giovanni insomma tutto l'entourage, peccato. Speriamo che smetta, quantomeno si asciuga un po'. Si poteva vedere una corsa molto più bella di quella che prospetta il programma. Quanto questa piccola pioggia potrà influire sulle prestazioni dei sette al via? Tanto, tanto perché hanno messo la sabbia nuova quindi la pista diventa un po' scivolosa, di conseguenza bisogna avere molta più prudenza della norma nel portare i cavalli avanti, quindi sulla velocità, sullo schema, insomma su tutto. Rintracciamo i primi tre dello schieramento? Ma è una corsa aperta, io guardando il programma a me piace molto il numero tre Alcatraz Stecca, credo che sia tra i cavalli da battere. Assieme ad Achiela Palfermi che è una cavalla che parte forte penso che dovrebbe andare davanti e giocarsela. Della sua il fatto che conosce anche bene Siracusa? Sì, una galla che si trova molto bene in questa pista quindi ecco la conosce bene, c'ha da giocarsi bene le sue chance e come terzo cavallo mettere il 4 Al Pacino 3. Qualche sorpresa? Sorpresa a Guagat. Andiamo sulla settima corsa, so che lei è impegnato con uno dei suoi cavalli, lo guiderà Agnello Ultrascam. Sì, è un cavallo generoso, insomma è una corsa che è aperta a tanti, a tanti soggetti. Che dire, il numero non è tra i migliori. Ripeto, è un cavallo che per la generosità magari se riesce a trovare una posizione potrebbe contare su una piazza. Il cavallo da battere secondo me è sempre il numero 3 Villeneuve Griff con Zaza Bond se riesce ad andar liscio e come terzi metterei l'uno Timast con il nostro Ultrascam. Grazie per il contributo Lorenzo Laro. Grazie a voi. Enrico Bellei, ospite a Siracusa per il Gran Premio Nastro d'Oro in Surchia da Wacate che noi tutti ben conosciamo perché ha iniziato la sua carriera proprio in Sicilia, adesso è in Toscana. Il numero uno sicuramente vi ha invogliato a venire a correre qui fino in Sicilia. Sono bene o male cavalli che conosci bene tu Enrico. Ti sei fatto un'idea di questa corsa? Senti, per quanto riguarda il cavallo ora deve sgambare ma insomma la forma c'è, sta correndo molto bene, ha corso benissimo l'ultima volta nonostante la sconfitta però siamo abbastanza fiduciosi. Ora è chiaro che è piovuto, c'è il terreno pesante e speriamo che senza ferri non abbia difficoltà. Chiaramente l'impegno è abbastanza severo perché ci sono due o tre soggetti che hanno forma e che comunque sia soprattutto Alcatra Stecca ha militato in categorie completamente diverse da queste che penso che terza nelle Hox, penso che il riferimento sia a lei. Poi c'è l'allieva di Achela Palferm che secondo me la cavalla probabilmente sarà la protagonista, la battistrada della corsa, ha già corso, ha già vinto a ripetizione su questa pista. Cavalla di casa, penso che i cavalli da tenere d'occhio siano questi. Poi metterei il mio che comunque sia per la forma, per i progressi che ha avuto ultimamente e poi ha corso molto bene al Pacino Trebbe l'ultima volta, fratello di Ringo Stratrebbe, il cavallo rimane su due vittorie buone, una a Roma in 57, l'altra ha fatto un buon tempo 2000 metri a Treviso l'ultima volta, è un cavallo di qualità, l'ho già guidato, è un cavallo che si trova alla corsa giusta può far male. Due parole anche su Tritone che dopo il ritiro di Tina Turner si vede aprire un orizzonte diverso. Certo, Tina ammazzava la corsa perché qualitativamente non aveva niente a che vedere con questi, il cavallo ha corso molto bene, ha il montato l'ultima volta, oggi proviamo per la prima volta a levargli i ferri sugli anteriori e c'è da vedere com'è, comunque spero, per la forma direi che c'è. Grazie Enrico, ti lasciamo a sgambare il cavallo. La seconda corsa è il premio Spinagallo abbinato all'IPICAN nazionale, una condizionata ben riuscita, ben confezionata con 12 al via, ci sono indigeni ed europei di tre anni. Prende il via questa seconda corsa dall'interno Black Block, Baby Attiva, più a largo Belcam e Bellucci Griff, ancora Babbiolo e Boss, Baby Attiva scende alla corda, al suo esterno agisce il numero 4 di Belcam, di dentro Black Block, Davanti a Babbiolo e Boss, ancora Bellucci Griff, via via tutti gli altri, 14 e 6 lanci, Baby Attiva leader, Belcam si porta ai suoi fianchi. In seconda posizione è Black Block Alor, che sta mettendo un po' in difficoltà Andrea Buzzitta e finisce con sbagliare sulla prima curva. Scende così alla corda Belcam e avanza subito Bellucci Griff. Baby Attiva è sempre leader, 34 dei primi 400 metri, adesso Bellucci Griff si avvicina alla femmina di Messineo che sta conducendo numero 2, 200 metri in 47 e mezzo, arriva la squalifica per Black Block Alor, Baby Attiva con a largo Bellucci Griff di dentro Belcam, Babbiolo e Boss, quindi ancora il numero 8 di Bijou di Gaia, si arriva a metà gare in 1,4 e mezzo da 1,21, Baby Attiva comincia ad allungare, all'esterno comunque c'è sempre Bellucci Griff che sta lì a guatare con all'interno Belcam, ancora Babbiolo e Boss e Bijou di Gaia, primo chilometro in 1,20 spaccati, Baby Attiva comincia ad allungare, comunque non si perde d'animo Bellucci Griff che prova a scavalcare Belcam che comunque tiene ancora la figura all'interno, Bellucci si avvicina minaccioso a Baby Attiva, siamo sul finire della curva con Baby Attiva, Bellucci Griff e Belcam, i tre che hanno preso vantaggio rispetto agli altri con Bijou di Gaia che prova a rifarsi sotto, siamo in dittura arrivo, Baby Attiva prepara la difesa a lunghi paletti, a largo scatta Bellucci Griff, quindi Belcam non bellissima in camminata, ancora Bijou di Gaia, testa a testa tra Baby Attiva e Bellucci Griff, arriva Fuss alzata e Bellucci Griff prova ad avvicinare, agganciare l'avversaria che comunque si difende e taglia da vincitice traguardo davanti a Bellucci Griff e al numero 8 di Bijou di Gaia. Terza corsa a premio Eureka, si corre sul Miglio ancora per una condizionata di scena i cavalli anziani di 5 anni e oltre, 8 al via. Dall'interno Zoraida, Zonk di Giri Falco e Tritone Lux, all'esterno anche Veri Windy, Tritone Lux tende a passare su Zonk di Giri Falco, la manovra riesce nel giro di 100 metri, Zonk in seconda posizione, all'argo resta Veri Windy, di dentro Zoraida Font, quindi Zadig del Ronco e Via Lelib, vacanza jet che prova a ricongiursi, 13 e 7 il lancio, si va sulla prima curva, Contritone Lux, battistrada, davanti a Zonk di Giri Falco, Zoraida Font, Zadig del Ronco che avanza a largo, 29 ai primi 400 metri, la mossa di Zadig è seguita da Veri Windy, adesso Zadig con più decisione si porta a largo di Tritone Lux e i 600 metri vengono percorsi in 45 e 2, 16 di frazione, Tritone e Zadig in coppia davanti a Zonk di Giri Falco, quindi Zoraida Font e Veri Windy in coppia, via via tutti gli altri e siamo al paletto di 800 metri che la coppia di testa passa in 1 e 1, da 1, 16 e 2, prosegue la marcia in avanti di Tritone Lux e Zadig del Ronco a costruire sempre all'esterno, si due seguiti da Zonk di Giri Falco che in questo momento ha la destra libera, quindi Zoraida Font e Veri Windy in calo, 1, 15 e 6 per il primo chilometro, 14 e 5 alla retta di fronte, prosegue Zadig del Ronco all'attacco di Tritone Lux, Zonk di Giri Falco perde contatto, prova invece ad avanzare dalla quarta posizione Zoraida Font e si entra in dirittura arrivo con Tritone e Zadig alle prese, Tritone lunghi paletti, Zadig all'esterno che sta facendo una corsa magistrale, Tritone e Zadig alle prese, mancano 250 metri, Zadig attacca a fondo Tritone Lux, i due sono teste e teste, Tritone comandato a fondo da Enrico Bellè, a largo Gaspare lo vede, Zadig e il Ronco che gradatamente prendono al meglio, sopra avanzano l'avversario e si avvicina nel traguardo per imporsi allo stesso Tritone Lux, di Galoppo, Zonk di Giri Falco, lascia il terzo a Zorai da font, due minuti spaccati. Dietro le spalle dei ormai giovani lanciatissimi, Andrea Sessa e Gatano Caravello, forse la tua presenza non è stata molto continua e loro ne hanno approfittato. Io sono molto impegnato e quindi faccio fatica a venire qui a Siracusa, ho corso poco però alla fine qualche corso l'ho vinta, sono arrivato nei primi tre, i ragazzi mi hanno superato e va bene così, il prossimo anno ci rifaremo. Ressi sempre uno dei migliori, è importante avverti anche, non sempre ma avverti qui è per noi importante. Quindi terzo posto, premio il dottore Mazzarella. secondo posto per Gatano Caravello, è stato un testa a testa fino alla fine, poi dal regolamento Federnat viene premiato Andrea Sessa per la miglior percentuale, però tu veramente hai buttato non solo una, ma forse più di una occasione per poter vincere. Guarda, si vede che doveva andare così, è stata una bella lotta fino all'ultimo e ci tengo a sottolinearlo perché quando le sfide sportive non sono scontate si arriva veramente all'ultima giornata con delle scienze per ribaltare del tutto, fino all'ultima giornata poteva ancora vincere Paolo, si vede che è una gran bella lotta e che continui così, speriamo che continui così perché questo dà forza a noi che siamo degli amatori, non lo facciamo per lavoro e questo dà sicuramente degli spunti e degli sproni, dato che comunque l'Ipiga italiana non ne dà tantissimi, cerchiamo di barcamenarci così. Bravo, belle parole da parte di Gatano Caravello, premia Piero Vasta, presidente del GDC Sicilia. E passiamo al vincitore, Andrea Sessa, un anno da incorniciare e col quale hai messo la perla col trofeo Regione Italia grazie a Vacanza Jet, diciamo che sei veramente l'emergente di questa categoria e da parte mia il premio mi sembra strameritato. Eh sì, non lo sapevo neanche che vincevo la classifica, l'ho vinta in base alla percentuale come mi diceva il presidente che mi ha chiamato una mattina e me l'ha detto, comunque sono contento, molto contento di questo. E ti sono state tolte le due vittorie del trofeo Regioni che non facevano parte del conteggio locale, se no avessi stravinto. Sì, sì, sicuramente, comunque sono soddisfatto di quest'annata, dai. Complimenti Andrea Sessa, premia il dottor Concetto Mazzarella. Adesso per i driver, al terzo posto, ha concluso in parità con Gaspare Loverde, Luciano Messineo. Luciano, potevi fare di meglio? C'è stato un calo in retta d'arrivo. No, è vero, l'ultimo mese ho avuto i cavalli un attimino forse stanchi da tutta la stagione, però ci accontentiamo, va bene anche per il terzo posto, arrivare dietro Cinture, dietro Porcio e a pari merito con Loverde è una bella soddisfazione. La conferma del tuo buon lavoro è dato dal fatto che il tuo proprietario ha finito il primo posto nella classifica dei proprietari. È vero, si vede che abbiamo fatto del buono per arrivare primi e lì, giustamente, i cavalli tutta la stagione, tirare la corda, arrivano poi a fine stagione un po' stanchi, però l'importante è che abbiamo raggiunto due obiettivi, arrivare in classifica come terzo come guidatore e primo come proprietario. È una bella soddisfazione. Complimenti a Luciano Messineo, premia il dottor Concetto Mazzarella. Al secondo posto finisce Giuseppe Porcio Junior che con uno sprint finale perché Luciano Messineo era per gran parte la stagione davanti, poi negli ultimi due mesi sono stati decisivi, un secondo posto, ancora una volta dietro alle spalle di Salvatore Cinture che ormai è diventato il numero uno qui al Mediterraneo. Sì, siamo stati fortunati, nell'ultimo mese i cavalli sono venuti davanti di condizione, mi hanno dato a guidare pure qualche callo buono e abbiamo risposto bene, abbiamo preso il secondo. Il prossimo anno cerchiamo di fare meglio. Complimenti anche a tutto il team che ti ha portato a ottenere questi buoni risultati, a partire da papà e poi tutti i ragazzi e i gentlemen, compresi Getano, Lino, che fanno parte di un entourage che vi permette di fare questi belli risultati qui al Mediterraneo. Premia Giuseppe Porcio, ancora un'oltre il dottore Mazzarella. A vincere per il secondo anno consecutivo Salvatore Cintura Junior in compagnia del piccolo Natalino, salvo che dire, l'anno scorso è stato un percorso di testa fin dall'inizio, 2019 è stato uguale, prospettive di confermarsi soprattutto, ma che ricordi hai di questo 2019? Diciamo che ho ricordi abbastanza bellissimi, arrivare in finale nel Superfrustino, partecipare a corse di gruppo 1 fuori, grazie a Vincenzo Chiavette, proprietario di Babi Russaggette, sono abbastanza soddisfatto del mio operato. Diciamo che qui su Siracusa la tua perla è stata, è anche la Palferme, che di gran lunga è stato il mio soggetto dei quattro anni e che anche in ambito nazionale non ha fatto male. Ma sì, a Chiela diciamo che è la cavalla di punta che abbiamo in scuderia, ci crediamo tantissimo, oggi speriamo di avere un po' di fortuna e fare una bella prestazione. Allora intanto becca di questo premio, ancora il dottor Mazzarella a premiare Salvatore Cintura e il piccolo Natalino. La quarta corsa è il premio Fontane Bianche e sul Miglio una condizionata, corsa Ippica nazionale con indigeni di 5 e 6 anni, europei di 5 e 6 anni per un campo partente di tutto riguardo. I tre della seconda fila seguono leggermente discosti, ancora leggermente discosto anche Zaffirio, probabilmente Vico Bellèi proverà a prenderla lanciata ma poi ripiega e si parte, si parte dall'esterno, prova il lancio veloce e Zaffiro Giallo, di dentro c'è però Zoom Rock, ancora Zolder OP, partenza veramente a tutta, di Galoppo Zaffiro Giallo, Zoom Rock scende alla corda davanti a VCS in poche battute, è rimasta a largo Zolder OP di dentro Zeno Font, precedere Zicano Rab, quindi Zapata Rab via via tutti gli altri, 14 e 2 il lancio, Zoom Rock a condurre davanti a VCS, a largo Zolder OP di dentro Zeno Font, seguito da Zicano Rab, ritorna Zaffiro Giallo in terza ruota, 28 e 7, numero 7, squalificato. Zaffiro Giallo viene chiamato ripetutamente alla squalifica ma probabilmente Giuseppe Pozzio non ha sentito e prosegue la sua corsa in avanti, i primi 600 metri in 45 e 6 con Zoom Rock Battistrada davanti a VCS, quindi Zolder OP, avanza in terza ruota dalle retrovie Zaffiro di dentro c'è sempre Zeno Font con a largo Zolder OP in leggero calo, metà gara in 1-2 e mezzo da 1-18, ripeto numero 7, squalificato. Continua lo speaker a chiamare la squalifica di Zaffiro Giallo che comunque continua, sicuramente Porzio non ha sentito la squalifica, Zoom Rock arriva al chilometro in 1-17 e mezzo, nella sua scia c'è sempre Voesia S, a largo Zaffirio di dentro Zeno Font e questo è il quartetto di cavalli che probabilmente si disputerà il podio. Siamo su finire la curva con Zoom Rock ancora in mano, Gaetano Di Nardo, adesso Lunghe Paletti prova ad allungare, a centropista avanza Zaffirio che si aggancia con Zaffiro Giallo, poi si sgancia, Zoom Rock non bellissima, scatta dalla sua scia a Voesia S che si porta all'attacco della lieva di Di Nardo, Zoom Rock alle prese con Voesia S, di dentro Zeno Font il palo è vicino, Zoom Rock tiene una lunghezza di vantaggio dagli avversari e si va a imporre con Gaetano Di Nardo a Voesia S, mentre di dentro Zeno Font precede Zilcovia Cis che non trova mai da correre e Zaffirio a centropista. Premiazione Scuderie 2019, al terzo posto la Scuderia Treassi, il team Porzio ancora una volta in premiazione, a ricevere il premio ci sarà uno dei componenti dell'enturaggio da Scuderia ovvero Gaetano Caravello, che anno è stato per la Treassi? Sicuramente un anno importante, è cominciato Maluccio però siamo riusciti a riprenderci abbastanza bene ed è sempre un onore essere ai vertici dell'Ippica Siciliana ormai da decine d'anni oserei dire, quindi è sempre difficile vincere ma è ancora più difficile confermarsi e la Treassi ci riesce sempre. Complimenti alla Scuderia, premia il dottor Concetto Mazzarella. Al secondo posto da Capo d'Orlando Piero Cucinotta, ogni anno ci sono sempre dei conteggi da fare perché c'è questa comproprietà con papà Maurizio, però questa volta è stata molto più semplice perché praticamente abbiamo aggiunto tutto quello che Maurizio ha in 100% che poi figura solo Ellison di Gaia e quindi i conteggi sono e purtroppo i soldi guadagnati da Ellison di Gaia non sono stati sufficienti a poter battere il signor Fancello, comunque un secondo posto strameritato, un anno devo dire positivo e i cavalli sono andati bene o male tutti secondo le aspettative giuste. Contentissimi sicuramente del risultato che abbiamo ottenuto anche perché portiamo avanti quelli che sono i nostri sacrifici, quelli mie e di mio papà in una scuderia dove siamo noi, i ragazzi e sicuramente anche merito loro che fanno un gran lavoro. Noi la passione è quella che ci porta giustamente a spostarci e fare tanti chilometri per venire a correre e resta poi sono queste le soddisfazioni che alla fine ti danno sempre la voglia di andare avanti e continuare a investire in quest'Ippica che secondo me è in una fase di nuovo rinnovamento speriamo di poter portare avanti e andare meglio sempre le cose. Speriamo bene, sono d'accordo, speriamo in un rinnovo il più veloce possibile. A premiare Piero Cucinotto, l'amministratore delegato, dottor Fabio Faraci. Al gradino più alto del podio, From Pachino, Carmelo Fancello e questa è una cosa che a me fa tanto piacere perché avere uno che è della provincia di Siracusa a prendersi il premio del proprietario in testa alla classifica del 2019 è qualcosa di bello e di positivo perché qui il trotto in questa zona tranne la zona di Pachino non è stato mai ai vertici ma dalle vostre parti il trottatore piace tanto e tu sei la conferma con degli acquisti azzeccati e un bel 2019 dove la maggior parte dei tuoi soggetti hanno fatto davvero bene, non avessi concluso con questi risultati. Sì certo, grazie per i complimenti. Merito di un gruppo che sta lavorando secondo me abbastanza bene perché ringrazio veramente, anzi ne approfitto per ringraziare tutti loro. i cavalli penso che stanno dando le solo dimostrazioni, ci stiamo lavorando sopra, spero di andare avanti ancora così. Aspettiamo alla conferma anche per il 2020. Ci proviamo, ho fatto il 2018, quest'anno mi rinnovo il 2019, proviamoci sempre. Complimenti Carmelo, dottor Concetto Mazzarella premia. Stringetevi, stringetevi. Mi ho cavalli tre anni anche alla Palferm, diciamo che abbiamo già detto tanto su questa cavalla non mi dilungherei per non togliere tempo a Salvatore Cintura, possiamo solo fargli in bocca al lupo per la costa che sarà per venire e augurargli il miglior risultato possibile. A premiare Salvatore Cintura per la scuola del Giro Alfa che è il dottor Concetto Mazzarella. Abbiamo qui Salvatore Cintura e ne approfittiamo per premiarlo come rappresentante dell'avvento Toniatti per Vacanza Jet che è risultata essere la migliore anziana a distanza qui a Siracusa. A premiare Salvatore Cintura è il piccolo Francesco Faraci. Passiamo ai due anni. Miglior due anni del 2019 B-Pop Firm, la scuderia Marocari SRLS di Alberto Palombarini riceve il premio da Fabio Faraci. Resta da premiare il miglior quattro anni che è risultato essere Zaira Truppo. Ritira il premio Piero Cucinotta insieme al suo allenatore Giuseppe Zanca. E si arriva alla quinta corsa tanto attesa, il premio GP Nastro d'Oro, 1600 metri da affrontare, monte premi interessanti, 40.040 euro. Gruppo 3 per questi cavalli che vi partecipano sono cavalli indigeni europei di quattro anni, una corsa internazionale con sette soggetti al via. E Alcatraz Stecca invece la prende comoda sia al Baricoc che Ask Me Now. Di galoppo che è la Palferma, lo stacco della macchina, Alcatraz Stecca in poche battute scende alla corda. A largo c'è Anastasia Griff in terza posizione a Guacata, precedere al Pacino Trebb. Poi anche la Palferma che si riprende, ma nelle posizioni retroguardia. Anastasia Griff leader con 200 metri in 15. Alcatraz Stecca adesso muove dalla sua scia per chiedere strada e si presenta ai fianchi di Anastasia. Gian Paolo Minuccio passa con comodo al comando con frazione anche piuttosto lente in 32. Di galoppo Anastasia Griff sulla prima curva, resta secondo così a Guacate. A largo avanza Albaricoc, quindi il quattro di Alpacino Trebb. Quindi Ask Me Now. Frazione lentissima, il galoppo anche di Albaricoc. Alcatraz Stecca è il leader, piuttosto facile. In mano a Gian Paolo Minucci, a Guacata in seconda posizione a precedere Alpacino Trebb. Numero 5, squalificato. 1, 4 e 4. Veramente frazioni lentissime, quelle che Gian Paolo Minucci sta concedendo alla sua allieva. Mette la testa in fuori a Guacate sulla retta di fronte. Primo chilometro in 1, 19, 6. Alcatraz Stecca e Alpacino Trebb. Prendono vantaggio da Alpacino Trebb, chiamata a maggior impegno da Gennaro Amitrano. Quindi Ask Me Now. Sulla curva finale, a Guacate affianca Alcatraz Stecca e l'impegna. Gian Paolo Minucci è costretto a chiamare la sua allieva a maggior impegno. Toglie i tappi e sulla lunga paletta prova la difesa da Guacate che comunque insiste. Quindi Alpacino Trebb che non guadagna. Di galoppo a Guacate nel punto di maggior sforzo. E così Alcatraz Stecca resta isolato in avanti. Alcatraz Stecca non senza nessun problema. Il gran premio ha aggiostrato a piacimento fin dalla partenza. E va a segno davanti ad Alpacino Trebb. Mentre il terzo posto è raccolto da Ask Me Now e tutti gli altri squalificati. Dal gran premio nostro d'oro. Non c'erano dubbi per la vittoria. Si è guardato solo per i piazzamenti terzo e quarto. Gian Paolo Minucci ha condotto nel più facile modi Alcatraz Stecca che si presentava da favorita tecnica che anche se poi al gioco gli è stato anteposto a Guacate. Gian Paolo una volta in testa ebbe dato il risultato perché a questo punto davanti ti devono battere e gli altri devono fare il massimo sforzo per riuscirci. Come ti dicevo prima nell'antiprima delle interviste sembrano tante volte corse facili. Avevamo detto che andava in testa quella di Cintura invece andava in testa quella di Porzio. però in quel momento ho ritenuto opportuno lasciarla andare intanto dopo sfilavo una volta che ha sbagliato quella di Salvo. Poi naturalmente lei è una cavalla migliore di questi qua diciamolo francamente. Una volta in testa cerchi un po' di gestire poi cercavo la corsia migliore perché a volte nella corda ce n'era di più a destra ce n'era di meno ho guidato un po' col tontom e poi è venuto a me, è venuto a destra quello di Enrico siamo andati per me non mi batte poi anche a detta sua e non per queste bellei ha detto che non mi avrebbe battuto visto che gli è mancato un po' il davanti diciamo che la cavalla ha vinto ha confermato abbiamo avuto anche un po' di fortuna che tante volte non guasta. So che a fine mese andrà a correre a Van Sen ci sarai tu in cabina di regia? Sì perché al Capone Stecca è lo stesso cavallo di scuderia lo guida Alessandro e io guido lei vorrà dire che batta al Capone Eh ma noi ce l'auguriamo perché sai che noi siamo legati effettivamente qui al Mediterraneo a te ed è un piacere vederti sempre qui in azione e questo successo diciamo ti gratifica anche gratifica noi dalla tua presenza ti gratifica penso perché qui c'hai tanti amici Ma sai io devo dire la verità adesso pecco un po' di presunzione gli amici in tutta l'Italia ne ho tanti forse per il semplice fatto che ho guidato un cavallo del genere ho portato tutti gli italiani sopra le spalle tant'è vero che ti faccio un piccolo aneddoto e scappo Giordano il giorno dell'America il secondo praticamente quello che abbiamo vinto è venuto vicino al cavallo e mi ha detto Gian Paolo ma visto quanti italiani ci sono e dico e allora? Dice ma se perdiamo chi gli odice a questi? Andiamo a casa loro uno per uno gli abbussavamo la porta e gli dimocamo perso perso è un po' quanto ci teneva Enzo soprattutto per il cavallo e per l'Italia e non per questo il primo trofeo del cavallo che ha vinto sta al Viminale del Presidente della Repubblica così è di tutti gli italiani bravi bravi e allora ritirerai tutti i premi il tuo da guidatore quello del proprietario Stecca e quello dell'allenatrice Michela Arracca lasciamo lasciamo andare Gian Paolo se no poi mi rimprova la che resta qui a Siracusa e perdere il volo resterei volentieri ma ho altri vintaggi resterei volentieri almeno paga una cena Mazzarella e allora dottore Mazzarella purtroppo il tempo non ci ha dato una mano soprattutto a livello tecnico noi ci aspettiamo sempre belle prove oci velocità purtroppo la pista resa pesante dalla pioggia non ci ha consentito di poter dare un esito migliore a livello tecnico però quantomeno abbiamo visto una delle migliori femmine di quattro anni in circolazione qui a Siracusa a vincere tecnicamente era il soggetto migliore Minucci Bellei insomma abbiamo iniziato bene questo 2020 sul tempo ci può anche stare un acquazzo al mese di gennaio purtroppo questo non possiamo fare altro diciamo però devo dire tutto sommato lo spettacolo non è mancato anche perché la qualità dei cavalli e anche dei guidatori era notevole quindi credo che questo diciamo non ha inciso in modo determinante sulla riuscita della giornata poi credo che il 2020 è partito veramente bene anche per il Trotto un gran premio nuovo un gran premio vinto da una cavalla di grandi mezzi che come ci ha detto Giampaolo andrà anche in Francia e quindi diciamo questo è un buon auspicio per questo 2020 Speriamo nel frattempo che tante cose possono migliare nell'ipica italiana perché insomma c'è sempre le chiacchiere dicono tra scioperi eccetera queste cose un poco che fanno male perché sulla carta non ci si potrebbe fermare però quando si arriva veramente con l'acqua alla gola si è costretti poi a prendere drastiche decisioni non sarebbe un inizio buono però speriamo che il buon senso di tutti possa portare a trovare una soluzione Io non lo so sento per la prima volta che qualcuno parla di scioperi ma non credo che sia questo il modo da affrontare il problema anche se purtroppo va anche dato atto che è una situazione che nello stato del settore si trascina in questo stato di diciamo di crisi di problemi che permangono da ormai da anni si spera sempre di riuscire a ripartire nel migliore dei modi possibili purtroppo a inizio anno ogni volta ci sono questi problemi anche perché non vengono definite per tempo determinate questioni il fatto di dipendere da un ministero complica le questioni le cose ecco devo dare atto che purtroppo la situazione non è bella ecco speriamo comunque dobbiamo essere ottimisti che si trovano delle soluzioni a breve e abbiamo la sesta corsa il premio Floridia con nove soggetti sul miglio una condizionata riservata a indigeni europei di quattro anni mancano 200 metri al lancio lungo i paletti Artac difende la posizione scatta bene però dal centro dello schieramento il Arnica Oz con a largo Arcano Nando di dentro c'è Artac che ha a largo Aledef preme all'esterno Arcano Nando ma Arnica è davanti con frazione in 14 e 6 e ci resta in seconda posizione sfilata con l'uno Artac Aledef si pone Sciad Arcano Nando all'interno invece c'è il numero 8 di Ania Rich a precedere Agla primi 400 metri in 29 e 2 con Arnica Oz leader davanti ad Artac in terza posizione ha trovato posto Arcano Nando e si presenta subito a largo Aledef seguito da Ania Rich primi 100 metri di Arnica Oz in 45 e 4 Arnica battistrada davanti a Artac Arcano Nando Aledef attaccheggia all'esterno quindi Ania Rich via via tutti gli altri ci avviciniamo al paletto degli 800 metri che la battistrada raggiunge in 1 2 3 da 1 17 7 continua a condurre liberamente Arnica Oz Artac prova ad affacciarsi al suo esterno all'interno ne approfitta Arcano Nando per per bucarla resta in terza ruota così Aledef precedere Ania Rich siamo sulla curva finale con Arnica Oz che ancora non è stata richiesta da Alessio Di Chiara Arcano Nando in seconda posizione a largo c'è Artac comangiata a maggior impegno da Conticelli quindi ancora Aledef Ania Rich di Galoppo Arcano Nando così Arnica Oz entra in vantaggio indirittura arrivo inseguita da Artac e dalla compagna di colori Arca Aledef Artac prova ad attaccare Ania Oz che comunque si difende senza problemi lungo i paletti avanza bene Ania Rich per il terzo posto ed è ancora Ania Oz che si difende da Ania Rich e Artac 2 4 4 1 17 8 Seguiamo le nostre premiazioni adesso verrà premiato l'artiere e diciamo che la scelta è stata è stata fatta dagli operatori ippici qui del Mediterraneo guidatori allenatori proprietari è stata una dura battaglia perché erano stati fatti due nomi su tutti che ci ha costretto a fare una votazione al volo e ne è uscito vincitor Ignazio Livigni che il dottor Fabio Faraci premia con questa targa vogliamo sottolineare che Ignazio Livigni è stato qui a Siracusa l'artiere purtroppo del compianto Enzo Lo Giudice e diciamo adesso sta proseguendo con i cavalli d'artiere diciamo un premio che va anche a lui ok io ti ringrazio quello che mi hanno votato la dedico a Enzo Lo Giudice bravo complimenti complimenti grazie allenatori concluda al primo posto il team Porzio capeggiato da Giuseppe Porzio Junior noi siamo in compagnia di Tony Porzio che ritira la targa messa dalla Ippomed a consegnare il riconoscimento del dottor Fabio Faraci grazie ringrazio a nome di mio figlio che lui fa l'allenatore e io faccio l'allenatore da terra per ora e quindi siamo due allenatori e comunque diciamo che dopo una partenza così a marcia indietro poi nella seconda metà dell'anno i cavalli hanno imbroccato secondo me una bella condizione e avete preso tanto anche Giuseppe come guidatore ha recuperato diverse posizioni quindi vuol dire che i cavalli poi hanno cominciato ad andare bene si ringraziando a Dio abbiamo preso il massimo di quello che potevamo prendere onestamente ci è andata bene gli ultimi 4-5 mesi è andata benissimo con tutta la scuderia complimenti a tutto il team Porzio a Tony a Giuseppe e a tutti i ragazzi che hanno contribuito a ottenere questo bel risultato L'ultima corsa del convegno di Trotto della seconda giornata del Galà Internazionale invece affidata al premio Cassibile sul Miglio si districa una difficile categoria quella G con 10 cavalli di 5 anni e oltre Di Galoppo è già Zecora Gioi prima dello stacco Prova la difesa Timast alla corda al suo esterno ci sono Villeneuve Griff ma soprattutto vuoi la Chuck SM che parte come una scheggia vuoi la Chuck SM in poche battute scivola al comando in seconda posizione prova inserissi Villeneuve Griff davanti a Timast Nel frattempo Villeneuve riesce a rimontare all'interno vuoi la Chuck SM allora Villeneuve battistrada Timast in seconda posizione vuoi la che a questo punto resta all'esterno in terza ruota avanza subito Vernale punta su Villeneuve Griff terzo alla corda c'è invece il numero numero nove di Royal Viking 36 piedi di 400 metri Vernale RL attacca Villeneuve Griff e tende a passare sulla retta di fronte Vernale adesso il nuovo leader Villeneuve in seconda posizione a precedere Timast a largo c'è sempre la Chuck SM di dentro Royal Viking si va al paletto di 800 metri con Vernale RL che lo tocca in 1-3-2 da 1-18-9 Vernale Villeneuve Timast che viene adesso all'esterno ZA Time Tough che segue l'avanzata di Timast primo chilometro di Vernale RL che viene passato in 1-19-4 Vernale è sempre a condurre in lunghezza avanti alla coppia formata da Villeneuve e da Timast quindi a seguire ancora in calo Time Tough di dentro prova all'avanzata anche il numero 9 di Royal Viking è difficile riconoscere le giubbe dei guidatori ma nel frattempo la vittoria passa tra Vernale e Timast Vernale lunghi paletti Timast all'esterno i due test e testa fruste alzate per Gasparino Verde e Francesco Paolo Caruso duello che si risolverà proprio ai fini del palo con Timast che prova ad apparigliare Vernale RL che prova a difesa ma alla fine passa Timast su Vernale RL quindi il 3 di Villeneuve Griff che precede il 10 di Ultra Kajamar Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti